Mi lasci dire che è folle l'atteggiamento di Salvini e Meloni, ma perché devono dire no al Green Pass? Ma come fanno i leader della destra italiana ad essere contro il Green Pass? Il Green Pass è lo strumento di libertà, non è uno strumento che impedisce la libertà, è il virus che impedisce la libertà. Senta, all'ombelli, io sui balconi a cantare un'altra volta, un altro inverno, non ci voglio stare. Cioè l'idea di tornare alle zone rosse, ai lockdown, quindi siccome l'unico modo è vaccino, 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 quindi io sono un pro-vax scatenato e contemporaneamente Green Pass. Dire di no al vaccino è inseguire, come posso dire, una retorica antiscientifica che non si spiega. La gente che vota Lega in Veneto o in Lombardia, ma è chiaro che vuole il Green Pass, perché è l'unico modo per ripartire. Insomma, un anno fa noi avevamo i banchi a rotelle, oggi abbiamo il Green Pass, è una rivoluzione. Cioè i banchi a rotelle servivano per far giocare qualche funzionario del ministero. In questo libro è tutto ricostruito.